Questo è il nostro showroom dell'usato. Come vedete ritiriamo di tutto. C'è elettronica, ritiriamo LP, articoli per il bagno, bicchieri, tazzine, piatti. Ovviamente devono essere sempre servizi completi, non devono essere scheggiati, perché qui è lo showroom dell'usato. Sì, è vero che siamo un mercatino dell'usato, però noi ritiriamo merce selezionata, non deve essere danneggiata, funzionante, perché ovviamente il cliente che lo acquista poi non deve rimanerci male. Come vedete ritiriamo anche libri, sia di romanzi, gialli, libri di cucina. Non ritiriamo più enciclopedie e libri scolastici, perché ormai non vengono più utilizzati con l'avvento di internet. C'è oggettistica anche in legno, articoli per bambini, sia per neonati che per più grandi. Poi, prego, seguitemi. C'è oggettistica come soprammobili, articoli per l'ufficio, valigie, 24 ore. Noi come mercatino dell'usato siamo uno dei pochi che non ritira l'abbigliamento. Abbiamo deciso che questo è l'unico articolo che non viene trattato. E in più ci sono, come vedete, articoli da cucina, che vengono sempre utilizzati. Qui troverete tantissime offerte e prodotti validi che possono essere utilizzati nelle vostre cucine.